aveva sopportato con eleganza quello che a tutti era sembrato uno scippo il seggio molisano al senato della repubblica scelto da silvio berlusconi era costato il posto a ulisse di giacomo storico coordinatore regionale di forza italia prima e del pdl poi ora in 12 pagine di memoria di giacomo ha contestato quell'elezione rifacendosi alla legge severino difendendo il lavoro della giunta e del parlamento e non rinunciando a togliersi qualche sassolino dalla scarpa chi ha scelto di frodare il fisco ed è stato condannato a quattro anni di carcere ha messo nero su bianco di giacomo non ha i requisiti morali che sono necessari per sedere in parlamento è il passaggio politico più rilevante contenuto nel dossier che l'avvocato salvatore di pardo che rappresenterà le ragioni dell'ex coordinatore regionale del pdl davanti ai componenti della giunta per le elezioni in senato un passaggio che segna una rottura definitiva peraltro già annunciata tra di giacomo e il cavaliere il primo dei non eletti ha infatti già dichiarato che nel caso di un suo rientro a palazzo madama sosterrà il governo necessario agli italiani ha spiegato i prossimi passaggi sono l'audizione davanti alla giunta alla quale parteciperà solo l'avvocato di pardo il voto della commissione e poi quello dell'aula con il cavaliere alle prese con dimissioni smentite giravolte e ripensamenti la data del 15 ottobre sembra ancora lontanissima ma il solco è ormai scavato e di giacomo questo appare certo una volta in senato farà gli interessi del molise e della nazione